è bello, non solo se lo sento in un'attività attenzione forte pedala 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 leggero è leggero detto dai e vabbè si deve spostare altro io la faccio questa puntata e allora vi spostare a presto 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 mi insegno per quelli che camminano a piedi ma a me piace molto diciamo è un po' pericoloso però si può fare ma è molto bello è un po' pericoloso 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 e è un po' pericoloso ci può fare eh vabbè no no si sono caduto proprio mi sono lasciato andare perché una volta che non ce l'ho fatta una volta che si è chiuso il manubrio mi sono lasciato andare si è chiuso il manubrio e non è sempre e qua sempre sono caduto a Monte Inici sempre sono caduto quando sono caduto sono caduto pure vabbè perché ci provo ci provo e allora aspetta lui dove è perché c'è da qua c'è da qua c'è no ma ho perso il manubrio fotoconiale ma c'è un porto o l'arriviamo si si ma è e non mi ricordo da qua e c'è Carmelo ma dove? no è Carmelo e da qua io mi ricordo non lo so dove avevamo le mani non le avevamo sul manubrio bravissima attenta qua a fermarti sei io ti senti grazie grazie